Scelto Andrea Biancani come potenziale successore di Matteo Ricci per la coalizione di centrosinistra, il primo cittadino di Pesaro è pronto a congedarsi dai suoi dieci anni da sindaco. Dieci anni che saranno narrati nell'incontro fissato per domani, sabato 16 marzo, alle 17.30 all'Hotel Charlie. Dopo due mandati da sindaco, il futuro a breve termine di Matteo Ricci guarda alla candidatura all'elezione europea. Una corsa sospinta anche dall'appoggio del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite giovedì sera nella lusfera di Piazza del Popolo per il via al ciclo di incontri dell'elezione magistralis della Capitale della Cultura. Sono qua ospite suo e quindi si potrebbe anche immaginare che non potrei dire altrimenti, ma in realtà lo conosco da tanti anni, credo che sia un politico molto apprezzato, localmente senz'altro lo è, ma lì basta vedere i voti che ha sempre preso, il consenso che ha, però si è via via imposto anche per la sua statura politica nazionale e a questo punto spero internazionale. Non è una battaglia facile, è chiaro, ma io credo che lui abbia molte possibilità e quindi nel mio piccolo se posso dare una mano a persone vicine a me politicamente, amiche, lo faccio. Io ho dato la disponibilità diversi mesi fa, adesso deve scegliere la segretaria Slai, sto facendo il giro del centro Italia con il Libero, sta andando molto bene, è un libro che ovviamente avrei comunque presentato, però la gente che partecipa, il consenso che sta riscuotendo mi galvanizza e mi dà anche una bella spinta per provarci. Aspettiamo che verranno fatte le liste, poi decideremo a quel punto di andare avanti fino in fondo, io ho dato la mia disponibilità e adesso sarà il mio partito valutare se posso essere d'aiuto in questa partita così importante come quella dell'Europa. Sul palco di Piazza del Popolo Sala ha tenuto un Alexio Magistralis dal titolo L'importanza della cultura per una città contemporanea e internazionale, il caso Milano, un argomento quanto mai cadenzato sul presente di Pesaro. È chiaro che la cultura è anche uno strumento di coesione sociale, ma per il turismo è fondamentale sia per i locali ma molto molto anche per gli stranieri. Ora in questo territorio stanno cominciando a arrivare tanti stranieri. Per rafforzare l'immagine e l'attrattività credo che la cultura sia la migliore cosa. A Milano abbiamo avuto un'esperienza molto significativa che è partita un po' con l'Expo, quindi nel 2015 e spero che l'anno della cultura qui a Pesaro abbia lo stesso effetto per questo territorio. Ringrazio Beppe Sala perché è il primo discorso che viene fatto, il primo speech che viene fatto sui temi della natura e della cultura. Questo sarà un modo anche alla fine dell'anno per raccogliere tutti questi contributi e farli diventare in qualche modo un racconto della città stessa, anche un contributo quindi di innovazione culturale e politica grazie a questa città. Grazie.